Ribadisco che gara 3 dei play-off si giocherà a Pesaro. Può capitare una concomitanza di eventi, ma il basket e la VL hanno la priorità. Parole del sindaco Matteo Ricci che anche oggi attraverso i propri canali social si è esposto a garanzia della disputa di un play-off della Carpegna prosciutto Pesaro che in poche ore rischia di passare dal massimo giubilo alla sensazione di essere scivolati su una buccia di banana. Ma facciamo ordine, la Lega Basket ha ufficializzato le date dei quarti di finale play-off di Serie A. La VL giocherà le prime due gare in trasferta sul campo della Virtus Segafredo Bologna. Si comincia domenica 15 maggio alle 21, dopodiché gara 2 martedì 17 maggio alle 20 e 30 e poi gara 3 a Pesaro giovedì 19 maggio alle 20 e 45. Eventuali gara 4 e gara 5 sabato 21 e lunedì 23 maggio. Peccato però che quelle giovedì 19 maggio sia una data minata dalla concomitanza della convention nazionale di Tecnocasa che porterà circa 9.000 persone in città. La convention si tiene dal 20 al 22 maggio ma gli allestimenti andrebbero organizzati già questa settimana. Insomma c'è stata una sottovalutazione della possibilità di concomitanza basandosi sul fatto che i play-off di Serie A erano materia estranea alla VL da dieci anni. Più o meno lo stesso lasso di tempo in cui Tecnocasa fa visita a Pesaro per le sue convention. Ora le parti coinvolte, Comune, Aspes che gestisce la Vitrifico Arena e Tecnocasa si metteranno a tavolino per un dialogo dal quale uscire con la soluzione più indolore possibile. In ballo però pende il rischio di una sostanziosa penale per l'annullamento della convention. In casa VL si resta la finestra dell'evolvere della situazione. Le parole di Ricci dovrebbero astenersi dal sondare campi alternativi per i play-off quali Rimini o Ancona. Impossibile invece per la Lega Basket pensare a date alternative.